bene mulioni e ben ritrovati in questo nuovo video oggi primo video su fifa 20 raga prima ho aperto fifa per la prima volta ho fatto giusto un paio di sfide creazione rosa che così aprivo giusto dei pacchetti bronzo da avere delle carte fare giusto una semplice rosa e adesso andiamo ad aprire un paio di pacchetti in più e via eccoci qua nella parte online volevo solamente dirvi che rispetto all'altro anno hanno aggiunto un passo stagionale che dal mio punto di vista è molto simile a quello di four night il pass battaglia e nella quale più saliremo di xp più cose potremmo ricevere che diamo a vedere cosa c'è ecco queste sono le cose che ci sono e che dureranno ancora 43 giorni e 21 ore e presumo dopo cambieranno premi bond adesso andremo ad aprirci i pochi pacchetti che ho già disponibili nel negozio buono incominciamo col primo attenzione franco attenzione eusebio van di bon adesso andiamo ad aprirci i pacchettini con i fifa points è fortissimo way ghost a 63 di velocità che bomba e via con il secondo oh siiii zahavi non ci credo mucchiere dai billy grande billy cabasele che bomba che muso de cattivo a cugna uuuu anche mille crediti che non ci fanno male oh yeah way lalalalalala bye perfetto andiamo avanti vediamoci l'ultimo pacchetto oh questo non mi sembra un cazzo male che bella palla della nike bella ma adesso mandiamo tutti negli spogliatoi a bere un tè caldo vado a fare un attimino la squadra e ci rivediamo tra un po' eccoci qua con la rosa finita ho venduto tutti i giocatori che abbiamo trovato nei pacchetti e direi che per il momento come squadra può andare insomma oh yeah andiamo a farci una bellissima partitella avanti mettiamoci questa che balle sarò straruginito dai qui è Pierluigi Pardo che vi parla accanto a me Stefano Nava primo match per le qualificazioni della division rivals prima occasione per migliorare la loro divisione di partenza gara tutta da seguire questa primo impegno per loro in queste qualificazioni importante vincere per partire con il piede giusto e puntare alla migliore divisione possibile attenzione e c'è il gol Henderson sicuro qui è molto bene molto bene ma da bravo dai Cori vaffanculo si aprono spazio invitanti buona riquezione qui occasione d'oro sembrava una formalità vabbè vabbè attenzione e c'è il gol Antonio Antonio posizione ideale Cori 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 ma dai non volevo passarla lì no stai cagata emulioni bravo no ma vaffanculo ma vaffanculo Antonio Keita Anderson succedimento interessante Antonio Antonio non trattiene occhio alla possibilità attenzione no dai Antonio forza di nuovo in campo dai no ma no lui eccolo qua eccolo qua perché siamo una banda eccolo e poi in gol può colpire da lì esce e recupera il pallone Anderson Keita bravo qui a smarcarsi hanno il pallone che può valere la parola attenzione e il pallone entra ed è gol aveva tutti gli occhi addosso oggi ma non si è lasciato prendere dall'emozione non è da tutti esodire con una doppietta attenzione perché è pericoloso occasione per passare in vantaggio è arrivato in vantaggio proprio nel finale devono mantenere i nervi saldi ancora per poco se vogliono buttare a casa questa vittoria prosegue la sua azione Diogo Iota può ricevere una posizione interessante alla messa dentro male in gioco eccolo primo gol per lui Iota non poteva farci niente sulla ribattuta un gol importantissimo che concede una nuova parità è davvero una partita incredibile dai portiamola a casa eccolo eccolo siiii e di nuovo a lui Iota oh se prendiamo adesso siiii prima partitella e ce la portiamo a casa 1589 crediti mulioni per questo video è tutto spero che questo nuovo fifa vi stia piacendo perché a me personalmente almeno per il momento sta piacendo un sacco e lasciate un like iscrivetevi al canale commentate come vi sembra eccetera eccetera noi ci rivediamo prossimamente e ci rivediamo come vi sembra